Il ciclone nero-verde si abbatte devastante sullo Stefano vicino e fa strame di un gravina che sprofonda sempre più. Così il bitonto vede rimpicciolirsi nello specchietto retrovisore la zona play-out. Mr. Valeriano Loseto sceglie ad occhi chiusi il reparto arretrato con Petrarca poeta dei 7 metri e spiccioli e il trio sostituibile John Frieda Silletti-Gomesch, in mezzo clemente in versione Riccardo Mutti, confortato dalla corsa azzannante di Mariani e Cardore. Pendolini Riefolo e l'Indo campione Chiaradia, già stato monumento al pallone Murgiano. Davanti il talento di Palazzo accanto all'esuberanza di Moscelli Junior. Il duo su Maragone risponde con Mascolo in porta, Parisi-Sanzone-Ligorio cintura difensiva, Ciaconna-Illuminare nel mezzo con Carmude e Intinacelli esterni. Le due punte sono Actis-Goretta e Oliveira-Prado. Eppure, prima dello tsunami di cui dicevamo, i lampi erano stati di marca giallo-blu. 60 secondi, Petrarca esce planando alle epidotteri sul rasoterra di Oliveira-Prado. Silletti fa la guardia alla linea bianca sulla ribattuta di Ciaconna. Minuto 6, ancora il sudamericano ci prova, sfera ben sopra la traversa. All'ottavo, la logica conseguenza della pressione. Sanzone imbecca Oliveira-Prado che lavora il cuoio di petto per Ciaconna che dal limite fulmina l'estremo Bitontino. Ci riprova ancora il dies di casa, stavolta si genufletta e blocca senza patemi Pippo. Timidi rugiscono i leoncelli, Mariani per Clemente che stanga d'acchito, fuori misura però. Diciottesimo e pari. Fallo laterale, Moscelli la spizza, Cardore si batte pugnace fra i mastini e serve Capitan Palazzo che con un tocco arguto fredda Mascolo. Cinque primi e thriller in area avversa, Clemente intercetta un goffo rinvio e viene trebbiato da Parisi. Fichiera di Milano non zuffola e si prosegue. Alla mezza, Ciaconna fin troppo scatenato, di testa sbaglia a porta e costringe al balzo gattesco il suo portiere che si rifugia in corner. Ma dalla bandierina, Loris indovina il capo di Gianfreda che incorna letale ed è 1-2. Feriti, i gravinesi reagiscono. Duetto Lauria-Actis-Goretta scarico per Ciaconna e sfera ad un sospiro dal palo. A due dall'intervallo, il solito Ciaconna dal limite chiama in causa l'ex Lecce che si distende e fa su il cuoio. Nella ripresa al quarto, Palazzo apre un corridoio a sinistra per Chiaradia, diagonale disinnescato con abilità da Mascolo. A Cavaliere del quarto d'ora, un'occasione per parte. Prima a cross dell'ubicuo Ciacon, Lauria-Murato, Intinacelli-Titille-Guantoni di Petrarca. Poi, Silletti in becca Palazzo che minacce sin vuole e centra per Moscelli che impatta Flebile. Al ventesimo, biblica confusione in area nero-verde. Actis-Goretta crolla sul prato, ancora Afono-Fichera. Poco prima della mezza, Cozzo-Fortuito fra Sanzone e Mascolo, attimi di apprensione per il goalkeeper che sarà trasportato d'urgenza in ospedale. A 5 dallo scadere, Mariani svella la palla dalle piote di Coppola e trova Maffei che, con una parabola melodiosa, Bugge era vicino, un po' troppo lontano dai suoi pali. Il pieno recupero è un gredda a frangere la manovra altrui e a servire il 10 che, Ustione, salta Parisi a rientrare e, infine, insacca l'1-4. L'abbraccio con i tifosi in trasferta sa di apoteosi per gli uomini del giovane presidente Orlino che, con questo chiaro successo, finalmente possono rifiatare dopo mesi di inique ambasce.